1 si ridice la panca uuu colpo basso ai danni di big cat tenta il pedigree uuu sulla panca pazzesco uuuu matual va a segno sta tu bene? oh sei bravo sei bravo uuu big cat lo perdevo però una serie di contromosse uuu quel tavolo mi ricorda molte cose un picnic delle mosse una ciavada c'è lo schienamento attenzione partirà il conteggio 1 2 colpo di reni uuuu matuan fa vedere di che pasta è fatto qui sta salto di barilla attenzione sembra una specie di sissor kick e adesso cosa tenta di fare un volo? sarebbe una cosa impossibile perchè come vedete c'è una panca in mezzo una cosa a vantaglio di big cat attenzione matuan si crede figo se c'è il volo sbagliato però quindi uuuu big cat è ripartito ma la raffica di pugni di matuan di matuan matuan l'ho fermato l'ho fermato uuuu volo un bicchetto non ho mai steso ma finta uuuu signori 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 questa ha fatto male questa fa male questa fa male questa fa male questa fa male anche questa fa male hanno fatto male tutte insomma matuan è carichissimo sono ormai dieci minuti che matuan va avanti comunque ormai dovrebbe essere la fine la fatica si vede quindi ormai c'è poco da fare big cat però con una stupenda mossa mandato il tappeto matuan matuan però si riprende è anche perfino il tempo di pulirsi attenzione si riprende con fatica però si riprende attenta il pugno big cat uuuu i due si fanno male al braccio uuuu colpo colpo ancora uuuu questa questa signori è una mossa questa io proponei lo schieramento ma i giocatori i lottatori sembrano voler andare avanti no no c'è lo schieramento uno due come non finisce qui non finisce qui non finisce qui sono undici minuti signori ogni minuto è una raffica big cat ma forse si senterà il volo forse no si sposta soltanto al tavolino è la panca quel che sembra si sposta qui là cosa vuole fare matuan ricordiamo che matuan è il campione dell'fwe un titolo molto prezioso possiamo dire l'fwe è nata nel 2009 oh Shawn Michael Shawn Michael cosa vuole dire cosa vuole intendere con questa cosa uuuu hbk mentre la dmp è nata ad agosto del 2009 c'è non molta differenza tra queste due squadre di altissimo livello uuuu mossa molto molto dan potente direi uuuu c'è l'attacco di matuan big cat forse sarebbe meglio rendersi lo danno 10 a 1 mentre matuan si diverte a spostare a spostare sta panca uuuu ma matuan cade fuori dal ring se fosse un normal match si potrebbe iniziare la conta se non mai 13 minuti che va avanti questa battaglia e sembrano aver fine ma attenzione buuuu oh mio dio questa partita molto entusiasmante direi oh mio dio una ddt sulla sedia è un archaio è un archaio